On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you, I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever you go. Lui e Jenny. Ciao. Lei e Alessia. Ciao. Jenny e Alessia sono ragazzi svegli. Guardano il mondo e si rivolgono delle tante cose che loro vogliono. L'inquinamento. L'industizia sociale. E porta alle guerre. E a Fabio Venza. E all'odio. Jenny e Alessia sono d'accordo. Il mondo deve cambiare. Ma il mondo cambia solo se noi cambiamo. Jenny e Alessia cercano e scoprono che esiste la bottega del commercio eco-solidale. Si rendono conto così che non sono soli. Rimbocchiamoci le mani che ritrovo davvero la mamma. Conoscere cacao della Bolivia che garantisce un giusto guadagno è il peccorodinio. Il cusco bianco che dà lavoro alle donne della Palestina. Il caffè bio che rospurta lavoratori. Il tè verde che rispetta i cibi naturali. Biscotti al miele che sono sani e buonissimi. Se questo nuovo modo non ti piace cambiano insieme a noi. Grazie. 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 Grazie.